Allora Toto, te la sei guardata dalla panchina, intanto dicci come sta la mano, se esistono delle possibilità di rivederti tra 48 ore ancora qua, certo che per Forlì sarà durissima riportare la serie al Palafiera domenica, il 7 giugno. Sì, io sarò qua, io ho una frattura, mi hanno fatto questo dottore, però comunque tutto quanto mi fa difficile prendere la pari in mano, perciò io sarò qua, se magari il coach ha bisogno non ci sarò, però con la mano sinistra posso fare proprio niente. Come hai visto questa partita, dalla panchina soffrendo come noi immagino, la loro capacità a rimbattere è stata decisiva? Sì, sì, sono stati bravi loro, andare sempre in 3-4 a rimarsi in attacco, e niente, bravi loro, adesso bisogna guardare gli errori e subito pensare a domenica. D'accordo, grazie.